Salve a tutti, sono Marco Fedi, deputato della Repubblica, eletto nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. Basta un sì, basta un sì per cambiare l'Italia, basta un sì per rinnovare le istituzioni della Repubblica mantenendo inalterata quella parte della Costituzione che ha reso l'Italia un paese importante in Europa e nel mondo, il paese della pace, il paese dell'impegno civile, il paese della democrazia, il paese in cui i diritti umani sono tutelati, in cui i diritti civili delle persone sono tutelati. Questa parte della Costituzione noi non la cambieremo, vogliamo rinnovare quella parte che regola la democrazia per rendere il nostro sistema istituzionale più efficiente, per fare cosa in sostanza? Per rendere più breve l'iter di formazione delle leggi, vuol dire che le leggi si faranno in minor tempo, si faranno leggi migliori nel miglior tempo possibile. Per rendere la politica meno costosa? Sì, perché ridurremo il numero complessivo dei parlamentari, ridurremo il numero dei senatori, avremo un Senato diverso, avremo un Senato che può consigliare al Parlamento ma il Parlamento, cioè la Camera, è dove si vota la fiducia, è dove si fanno le leggi, è dove si decide il futuro del paese. Ecco, questo sistema in cui tra l'altro viene mantenuta la circoscrizione estera con 12 deputati è un sistema più efficiente, è un sistema che migliora il paese ed è per questo che chiediamo agli italiani all'estero, agli italiani d'Australia, agli italiani di Tunisia, agli italiani della ripartizione in cui sono stato eletto, di impegnarsi per il sì, non solo votando per il sì, non solo partecipando al voto, ma impegnandosi anche nella campagna elettorale. Buon sì a tutti voi!